Sei pronto? George sarà ancora più strepitoso! Burlone! E curioso, curioso, curioso come... George! Curioso come George! I nuovi episodi, da lunedì a venerdì alle 8.25 di sera a Disney Junior! Tra poco, i numerotti a Disney Junior! Dove la magia ha inizio! Buon Natale a tutti! Dove tutto è magia, a chiocchi gioia in casa Pig! Si ride a te va a pelle, le feste insieme adotti! Saranno così belle, che dolce buonanotte! Col nostro Winnie Boo! E che divertimento, con George la zebra giù! Nella casa di Topolino, c'è l'albero da dobbare! Con Jake, il Natale è stupendo! Tra le onde in mezzo al mare! Nessuno ormai resiste all'artatacmania! Natale è a Disney Junior, sì, festeggio e compagnia! Dove tutto è magia! Accio!